musica Sì, adesso è rosso. Ok, bene, bene, quindi userai anche il rapporto là e usci l'altra catena davanti e a posto. Com'è? Facile. Devo fare due. No, non guardare. Devo fare un po'. No, come non so. Non faccio sapere un po'. Sì, sì, mi sento proprio in trezzo a due. Senti. Sì, 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 sì. Allentate, li aspettiamo. Ci ricompattiamo e iniziamo a dividerci. I just said the cash. So what we have is that in the end, looking at the numbers, you were all quite in the range di potenza, quindi nessuno si trattava troppo ovviamente, il più anaerobico sei, il più sprintero sei il più lento devi andare per un tempo più lungo ma, diciamo, più o meno tutti di voi hanno fatto un buon lavoro quindi tu hai potuto salvare l'energia, cosa succede? che il peso è più alto e ti chiedo, se questo succede, se il concentrato sull'esercizio se il peso è più buono o un buon lavoro? defend, no? questo significa che, usualmente, non pensiamo molto a questo e tu stai, prendi l'acqua in fronte questo significa che la tua posizione usuale sull'esercizio non preoccupi molto di questo tipo di essere l'energia quindi, per andare lentamente è, usualmente, più facile non preoccupi molto a questo tipo perché è lungo basso anche in Italia come succede, facciamo un basso il nostro rotatore questo è quello che abbiamo detto per i due ragazzi a volte è molto più facile stai sotto ma la risposta è ok, ok, ma è facile non fatica per andare 40 per l'ora no? e questo è certo puoi fare questo con la mano qui un'epoca facile ma se ti fai utilizzato per concentrare su queste cose quindi sai sai come stai sotto e trainati questo sull'esercizio sull'esercizio le parti di l'esercizio ho sempre avuto il corretto quando ho iniziato da la scuola è